Partita difficile all'inizio? Tensione? Sì, certo. Il campionato in Italia è il più forte del mondo. Quindi ogni partita è così. Ma questa Varese è più forte delle aspettative? Sì, penso che sì. L'oro inizia troppo forte. È una grande sorpresa per noi. Spaventare. Possiamo cambiare tattica, si gioca forte come loro. E alla fine siamo bene, siamo vinciati.